In questo video vedremo come inserire un annuncio in Google Classroom. Dopo aver fatto il login ci ritroveremo all'interno di un pannello molto simile a questo. In questo pannello saranno presenti le nostre classi. Ne scegliamo una, quella per la quale deve essere scritto l'annuncio. Io scelgo classe di prova. In questo caso noto il layout tipico di Classroom fatto di tre canali che sono Stream, Studenti e Informazioni. Brevemente Stream è il flusso di lavoro e quello su cui lavoreremo di più che fa somigliare in parte Classroom ad un blog. Studenti è invece l'elenco degli studenti appartenenti a questa classe. In questo caso sono due studenti di prova. E Informazioni sono tutte le informazioni eventuali che si possono attribuire a una classe. Per esempio il nome della classe o anche il luogo in cui si trova. La sezione Informazioni è forse più sensata in un contesto diverso da quell'italiano dove le classi sono fisse e sono gli studenti a muoversi. Allora, torniamo nello Stream. Per inserire un annuncio bisogna cliccare il più in basso a destra. Compaiono le solite quattro possibilità. Quella di riusare un post, di creare un questionario, di creare un compito e di creare un annuncio. Noi interessa quest'ultima, creare annuncio. Clicchiamo sull'icona e come vediamo qui lampeggia il cursore che indica il titolo. Poniamo che l'annuncio sia Inizio Stagione Di Prosa Teatro Ecco Io potrei anche semplicemente pubblicare l'annuncio e gli studenti se hanno impostato Classroom nel proprio telefono semplicemente Gmail con l'account edu Avranno una notifica che il professore XY ha inserito un annuncio da questo titolo. Poniamo però che io voglia corredare l'annuncio di un link. Il link è nello specifico di quella che è la stagione teatrale. Come vedete qui non c'è spazio per scrivere molto altro. L'annuncio si presta ad informazioni molto sintetiche. Come vedete non c'è una, qui sotto, una descrizione, una seconda riga che invece compare nel compito. Quindi poniamo che io abbia già trovato il link. Ecco qua. Questo è il link della stagione. Io copio questo link. Ritorno nella mia classe. Clicco nell'icona del link, allega link, inserisco questo collegamento e poi clicco su aggiungi. Peraltro dopo qualche istante qui accanto a link comparirà una specie di anteprima della pagina, quindi una specie di miniatura di una pagina come questa. Ecco, a quel punto io posso decidere ormai di pubblicarla. Potrei inserire eventualmente anche altre risorse con la stessa identica modalità, per esempio un video di YouTube, nell'ipotesi che voglia far vedere qualcosa sulla stagione teatrale tramite un video, un file da Google Drive o allegare un file che non è in Google Drive, che è per esempio nel mio pc e nella mia chiavetta. Ultima cosa. Scelgo su quali classi pubblicare questo tipo di annuncio. Un annuncio come questo è il classico esempio di annuncio trasversale. Vale a dire che può essere legato a tante nostre classi. A quel punto io clicco sul menu a tendina e faccio il check su tutte le classi che ritengo coinvolte o utili per quanto riguarda l'annuncio. Una volta scelto clicco su pubblica. Ecco, come vediamo, questa è l'anteprima di cui vi parlavo, in questo caso l'annuncio è stato creato, gli studenti o comunque coloro i quali sono iscritti alla classe hanno ricevuto al momento una notifica. In questa notifica è scritto che il docente ha pubblicato un annuncio che presenta un link. Questo link è anche direttamente cliccabile dalla mail di Gmail che appunto gli aderenti alla classe hanno ricevuto. È possibile aggiungere anche un commento, questo se i commenti sono stati abilitati per la nostra classe. Ricordo che questo aspetto viene regolato dalla colonna studenti, da questo menu a tendina. Questo abbiamo detto è l'annuncio. Questo annuncio, nell'ipotesi che io mi accorga che presenti degli errori o semplicemente debba essere modificato o eliminato, può essere in qualunque momento modificato attraverso questi tre puntini, cliccando sui quali io posso muoverlo in cima, in questo caso è disabilitato perché essendo l'ultimo annuncio è già in cima. Posso modificarlo e quindi ritorno alle modifiche, eccole qui, oppure posso definitivamente eliminarlo. Queste sono le funzioni essenziali di quello che è la funzione annuncio di Google Classroom.